Bene, abbiamo in campo il primo dei 37 concorrenti che affronteranno questa prima prova di campionato. La tabella C la iniziamo da Leonardo Mambretti in sella a Rainbow de Bergerie numero 503. Andiamo ad iniziare quindi ad aprire ufficialmente questi campionati d'Italia Senior con il cavaliere Lombardo, Leonardo Mambretti, un bote Bergerie, un cavallo belga nato nel 2001, 11 anni. Grazie. 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 Grazie.